Un nuovo treno swing da oggi è in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano. Diventano così 24 i nuovi treni regionali già in circolazione sui binari delle Marche. Un programma di rinnovo della flotta che sta dando i suoi frutti anche sulle performance. Le Marche, con 95 treni su 100 che arrivano in orario, sono una delle regioni più puntuali d'Italia. Il convoio è stato presentato stamani al presidente Acquaroli da Luigi Corradi, AD di Trenitalia. È una giornata molto importante, molto importante per Trenitalia, molto importante in generale per la regione Marche. Abbiamo inaugurato un nuovo treno, uno swing, un treno diesel di ultima generazione, ma è solo l'inizio di un piano di investimenti che porterà in regione fino a 25 treni nuovi. Stiamo facendo vedere in termini pratici investimenti che sono stati lanciati già da qualche anno. Costruire un treno, portare un treno in servizio è un progetto che ha bisogno di lungo tempo. Questo per me è un messaggio molto importante, nel senso che si è investito già con decisioni di anni fa e si è portato a termine l'investimento. Il messaggio nostro di Trenitalia è quello di dire prendete il treno. La qualità del trasporto regionale è già migliorata molto e grazie a questi investimenti migliorerà ancora di più. È importante che le persone salgano sul treno, lo provino, capiscano toccandolo con mano tutto quello che stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo perché dobbiamo spostarci tutti sempre di più in treno. Io sono convinto che chiunque verrà su questo treno lo proverà, capirà cosa voglio dire e ci ritroveremo mano a mano in futuro con più persone che avranno voglia, si divertiranno, saranno comode a viaggiare in treno. Chiaramente questo va visto, bilanciato rispetto a un periodo molto difficile e particolare che ci vede far fronte con il problema del Covid. Però ecco, ci tengo a sottolineare che lo sforzo di Trenitalia da sempre, da quando abbiamo avuto il problema del Covid è stato quello di guardare anche molto alla sicurezza. Quindi quando parliamo di trasporto regionale, trasporto pubblico, parliamo anche di un trasporto che ci ha permesso nei mesi scorsi di far spostare le persone con grande sicurezza. Quindi prendete il treno anche perché è sicuro. Beh, è una giornata importante perché il parco macchine che gestisce la mobilità del nostro territorio si arricchisce di una nuova unità, un'unità importante per dare un servizio ulteriore e soprattutto perché è simbolicamente anche importante a dare una spedanza di ripresa e di ritorno alla normalità in questa fase così complicata e difficile. Stiamo progettando, si sta progettando il rilancio del nostro territorio anche dal punto di vista turistico, la riscoperta dei borghi, la riscoperta del nostro entroterra, un segnale verso anche le aree colpite dal sisma che così tanto hanno sofferto che la pandemia non ha fatto altro che aggravare una situazione già che era molto pesante. La capacità di immaginare un'intermodalità tra ferrovie, autobus, aeroporti e strade e autostrade può essere sicuramente un'opportunità di rilancio e di vedere la nostra regione per essere vissuta in maniera diversa, di vedere la nostra regione protagonista anche sotto questo punto di vista. Il piano di ammodernamento si completerà entro il 2025 con l'arrivo di altri 20 nuovi treni per un investimento complessivo di 300 milioni di euro.